Buongiorno Iosef, sono tornato a Macerata e ho intenzione di farti tremare la cosina tutti i giorni, veramente patetica Silvia Berlusconi, messa all'angolo e lì rimane fino a quando non la scanniamo, Ubi Runner Scrofa Cessa, che all'epoca del mio sequestro raggiante mi presentava a tutti i maiali dell'Opus Dei come suo fidanzato e futuro marito, mentre oggi mi supplica di dire al pianeta Terra che le donne umane sono inutili, che le donne umane sono tutte le sue e che l'unica cosa che conta è il pene, possibilmente animale. Guerra totale all'Opus Dei e basta! Ci vediamo nei prossimi videomessaggi!